Oggi portiamo la classe dei fucili tattici. Questi fucili spesso richiedono una reattività maggiore rispetto ai fucili automatici. Per questo consigliamo di impostare un 17% 0,32 per i piccoli e un 69 per cento e 0,83 nei medi così da poter cambiare obiettivo velocemente senza andare a perdere sensibilità particolari nella mira. Possiamo anche sfruttare al massimo i trigger impostandole uno 0 per cento di inizio e una fine dei 50 così da poter effettuare raffiche più veloci meno distanziate l'una dall'altra. in fase di puntamento a digerire